Ricordo che Guccini abbia mai presentato una canzone sui migranti, è la prima volta che lo sento in vita mia e dovremmo chiedere a Guccini e lo chiameremo presto. Io so che c'è stato un brano presentato a Giacchetti ma non mi risulta di una firma di Guccini a Giacchetti, a Enzo, è stato detto come una regola interna che ci avevamo dati l'anno scorso che al di là della valenza che la commissione avrebbe riconosciuto nelle canzoni per noi valeva anche che a parità di votazione valesse più portare al festival un interprete vero della musica e non un infiltrato, nel senso buono, nel senso che ogni anno si presentano molti attori, alcuni personaggi dello spettacolo, addirittura degli sportivi, che ritengono Sanremo essere un po' come dice mi voglio sbizzarrire, mi voglio divagare una volta, ma che non fanno questa professione. E allora, questo è stata una regola interna, però è la prima volta che io sento che il brano fosse di Francesco Guccini. Lo giuro, mi possono giacarmi.